Buonasera Memushai, allora Pescara che doveva tornare alla vittoria e questa per Memushai è una vittoria particolare perché festeggia anche il compleanno. Sì, al di là di quello, oggi l'importante era vincere in qualsiasi maniera perché sapevamo che era una partita molto difficile perché loro venivano qua e si chiudevano. L'avevamo già preparata così e si è dimostrata così. Oggi l'importante era avere pazienza e aspettare fino all'ultimo perché si poteva sbloccare fino alla fine. Qual è stata, secondo te, la chiave per sbloccarla nel secondo tempo? La pazienza a colpire nel momento giusto al di là dell'infortunio che hanno avuto loro perché già qualche secondo prima potevate passare con Monachello? Sì, oggi, come ho detto, la cosa importante era avere pazienza e aspettare il momento giusto per fargli male perché anche nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, non tantissime, però qualche occasione. Anche perché loro si difendevano tutti dietro la linea e avevano messo un difensore su Brugman. Una vittoria importante, non so se tu sei d'accordo, ma dalla tribuna questa sera abbiamo visto un Pescara molto cattivo, cattivo nel senso buono, forse quella cattiveria che in qualche frangente era un po' mancata. Ripeto, in questa partita ci dovevamo comportare così di conseguenza perché loro sono una squadra molto tosta, fastidiosa e che ci hanno dato del filo da torcere. Lo sapevamo perché questo è il Carpi. Ripeto, siamo stati bravi ad aspettare fino alla fine e risolverla alla fine. Conta poco, ma anche se il Pescara ha due partite in più del Palermo, insomma, avete riacciuffato la vetta. Conta poco, però è bello. No, no, è bellissimo. Ora però sappiamo che abbiamo due partite in più, sempre loro anche due partite le devono vincere, quindi non è quello. Ma non bisogna neanche guardare la classifica, tanto bisogna arrivare fino a gennaio con più punti possibili, fino alla sosta. Si è parlato tanto alla vigilia anche di questa contemporaneità di Pescara Carpi nella stessa serata di Juventus Inter. Un giocatore esperto come te chiedo, ma com'è possibile giocare Pescara Carpi nella stessa ora di Juventus Inter e vedere uno stadio così? Fa rabbia? Sì, fa un po' rabbia, ti dico la verità. Infatti oggi sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più. Ci aspettavamo qualcosa di più perché, ripeto, ci giocavamo il primo posto, anche se abbiamo qualche partita in più. È un peccato, però capisco che anche la gente oggi c'è Inter e Juve, tanti se ne stanno a casa. Lei, Dianne, voglio concludere, almeno l'ultima da parte mia, con una battuta simpatica. Intanto ti volevo chiedere l'età, si può dire quanti ne sono oggi? No, sono tanti, quindi ora è meglio che non mi ricordi, anche perché fra mezz'ora è passata, quindi sono 32. 32 meritano una fetta di torta e un po' di champagne dopo questa vittoria? Sicuramente, sicuramente, quindi ora una fetta me la merito.